Pacchino, piromane, danneggia incendiandola un'autovettura, denunciato, pregiudicato, beccato un piromane nella mattinata di ieri dagli agenti del commissariato di Pacchino. A seguito di un'accelera attività investigativa, è stato denunciato un uomo dei 35 anni di Pacchino, già conosciuto alle forze di polizia, per aver incendiato un'autovettura. Il denunciato, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, la notte del 15 marzo scorso, ha danneggiato incendiandola un'autovettura. La meticolosa disamina delle immagini riprese dai vari impianti di videosorveglianza installati nella zona consentiva, sin da subito, di indirizzare i sospetti sul noto pregiudicato locale e l'immediata perquisizione effettuata presso l'abitazione dello stesso consentiva di rinvenire gli indumenti indossati al momento del reato. Grazie. Grazie Grazie Grazie